Ampi comune di Pescara ricordano i bombardamenti sul capoluogo adriatico con una serie di cerimonie. Abbiamo pensato che essendo il 75esimo anniversario e quindi una ricorrenza particolarmente importante, visto e considerato che comunque è una ferita ancora aperta per Pescara, visto e considerato tante cose, quest'anno abbiamo deciso di ampliare l'offerta, per usare un termine moderno, aggiungendo alla parte istituzionale che si farà sempre lì davanti al muro della stazione un'altra parte con l'aiuto di Pescara Bici in modo particolare, facendo una biciclettata che vuole essere non soltanto un inno alla pace, ma anche un richiamo a tempi migliori, contro le guerre, contro tutto quanto ciò che ha portato a quel bombardamento, quindi alla guerra. L'idea che abbiamo avuto è quella di inserire uno spettacolo teatrale itinerante che partirà dal Ponte del Mare alle otto e mezzo del 31, attraverserà le zone più colpite dei bombardamenti e terminerà davanti al locomotore che sta lì alla stazione Vecchia, dove sarà chiuso questo spettacolo. Uno spettacolo è stato scritto appositamente per questa occasione da Alessandro Blasioli, che lo interpreterà anche. Parteciperà anche l'Associazione degli Ex Consiglieri Comunali, che quindi vuol far sì che la memoria non sia ricondotta soltanto all'iniziativa attuale dell'amministrazione comunale e della Presidenza del Consiglio, ma a tutte quante le consigliature della storia di Pescara degli ultimi 75 anni.